A questo punto il dottor Gianpietro Ruppolo che rappresenta la direzione regionale piani e programmi sociosanitari, in pratica l'anima oltre che il cuore di questa conferenza regionale sul diabete, chiediamo che cosa vi aspettate, quali risultati vi proponete da questa sfida che lanciate? I risultati da questa sfida, come dice lei, io spero saranno i materiali necessari per scrivere un progetto obiettivo regionale per il diabete. Abbiamo un estremo bisogno di una programmazione omogenea che garantisca ai pazienti una continuità di cura secondo gradualità differenti che vanno dal domicilio, dal territorio, alle grandi specializzazioni nelle grandi aziende ospedaliere e senza un progetto obiettivo che è uno strumento di programmazione di settore che deve essere approvato dal Consiglio regionale, in particolare dalla quinta commissione consigliare, non sarà possibile fare ciò. Io mi auguro che la conferenza trovi un consenso sugli elementi fondamentali che consentano poi alla Giunta di proporre al Consiglio questo tipo di progetto obiettivo. Qua riuniti esperti davvero importanti provenienti da tutto il Veneto e non soltanto, gli standard di cura del diabete oggi, che tipo di standard sono? E anche sotto questo profilo, che cosa sarebbe auspicabile accadesse? Si può dire che il problema non è sugli standard alti o bassi attuali, perché certamente i pazienti diabetici hanno, da sistema sanitario del Veneto, tutto ciò che in qualche modo è garantito dai livelli essenziali di assistenza. Anche come rete assistenziale, no? Anche come rete assistenziale, però si tratta di una rete che è stata costruita su linee di programmazione che cominciano a essere obsolete. Una parte dei diabetici che adesso sono seguiti nelle strutture ospedaliere potrebbero più utilmente essere seguiti da parte di strutture territoriali o dalla medicina generale, dai medici di famiglia. Mentre forse abbiamo bisogno di qualche struttura di terzo livello specialistica in più per le gravi forme di dismetabolismo, per i diabetici molto molto gravi. Anche perché l'età media dei pazienti, dei cittadini di questa regione tende ad aumentare e inevitabilmente anche le complicanze legate al diabete tendono a presentarsi sempre più, come dire, complesse. Grazie.